Omelia settima domenica tempo ordinario annoci. Siate misericordiosi come è misericordioso il padre vostro. L'uomo che ha creduto all'annuncio. A quello che Dio ha fatto in Gesù. Kerigma spontaneamente si chiede. Ora che cosa devo fare? Come devo vivere? La risposta è questa. Ci deve essere corrispondenza tra ciò che Dio ha fatto e ciò che l'uomo deve fare. Ora la vicenda di Gesù è l'espressione storico concreta dell'atto di amore totalmente gratuito ed universale. Mentre eravamo peccatori egli, per primo, ci ha amati, con cui Dio si dona all'umanità e in cui rivela quello che è. Il cristiano perciò deve amare di un amore gratuito ed universale. Perché? Dio in Cristo ci ha amati così. La stessa capacità di amare ci è data dal fatto che prima siamo stati oggetto di amore. Appare chiaro che il principio della vita morale del cristiano. L'amore gratuito e universale, o carità, non può essere compreso al di fuori del Vangelo. Luca, nel Vangelo di questa domenica. Non enuncia questo principio in forma astratta. Ma in forma concreta, raccogliendo una serie di detti di Gesù. Tutti questi precetti sono delle indicazioni presentateci sotto forma drammatica per il riferimento a delle situazioni di fatto. Circa la qualità e la direzione dell'agire umano in vista della sua conformazione all'agire divino. Siate misericordiosi, come è misericordioso il padre vostro. Le espressioni di Gesù fanno paura per la radicalità e l'esigenza. Noi dobbiamo ricordare che la qualità può essere presente anche in uno stadio piuttosto iniziale di realizzazione. La direzione può essere discernibile nell'atto anche quando la meta si trova piuttosto lontana. Ma l'esigenza che la nostra azione abbia nelle situazioni concrete della vita questa direzione è. Questa qualità, amore gratuito ed universale, è categorica. Quanto Gesù dice nei detti raccolti in questo discorso non è un ordinamento completo della vita dei discepoli, né mira ad esserlo. Quanto vi si dice è una serie di sintomi. Segni. Esempi di ciò che avviene quando il regno di Dio è rompe in questo mondo ancora dominato dal peccato. E dalla morte. Segni del regno di Dio. Gesù dice in certo modo. Voglio mostrarvi con alcuni esempi come è la vita nuova. E ciò che io vi mostro in tal modo voi dovrete trasformarlo in tutti i settori della vita. Voi stessi dovete essere segni del venturo regno di Dio. Segni posti ad indicare che qualcosa è accaduto. Deve apparire agli occhi del mondo dalla vostra vita e da tutti i settori di essa che il regno di Dio ha iniziato, seconda lettura. Se è vero che siamo solidali con l'uomo che è in noi e la cui dinamica è il peccato e la morte. È anche vero che per l'adesione al Vangelo diveniamo solidali con Cristo e con la sua dinamica di amore, vita e risurrezione. Come interrompere la proliferazione della violenza. Uno dei problemi più gravi oggi è la violenza. C'è un nuovo modo. Magico. Di considerare la realtà. Di de-responsabilizzare la persona. Dicendo che la causa di tutti i mali è fuori della persona. Nella società, nelle strutture, nella ereditarietà, nell'inconscio collettivo. Questo è verità, ma non è tutta la verità. L'uomo resta, nonostante tutto, libero. Il male è entrato ed entra nel mondo per un atto di libertà dell'uomo. Non è vero che la persona è innocente dentro e che il male viene tutto da fuori di lui. E se è vero che non dovremo mai cessare di impegnarci per rendere le condizioni esterne di vita. umanizzanti e non disumanizzanti. È anche vero che non dovremo mai cessare dal fare appello alla coscienza della persona. Alla sua libertà. L'uomo è insieme vittima e assassino. La violenza, come ogni male, ha una logica, crea una catena, mette in moto una. Proliferazione. Ci vuole qualcuno che spezzi l'anello. Che interrompa la proliferazione. Cami per primo. Chi accetti di essere vittima senza essere assassino. Cami nonostante tutto, che ami senza essere amato. Cristo è la vittima innocente che ha interrotto la catena. Il cristiano, trasformato nell'intimo da Cristo, reso nuovo, inizia una nuova logica con un atto d'amore gratuito ed universale.